Buonasera e bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano ci occupiamo dell'avvertenza Oshan e vicina all'acquisizione da parte di Conad. Sono molti i dubbi però sulla conservazione dei posti di lavoro e così i sindacati hanno proclamato lo sciopero nei punti vendita in tutta Italia e manifestazioni anche al Mise. Sentiamo. Da Roma a Modugno a Casa Massima 18 mila lavoratori della rete Oshan smai in sciopero in tutta Italia coinvolti nella maxi acquisizione del gruppo da parte di Conad. Un'operazione annunciata da tempo ma per la quale non sono stati ancora resi noti i piani dell'azienda. In particolar modo d'esta preoccupazione il futuro occupazionale con il rischio di una riduzione dei posti. In Puglia dove gli ipermercati sono quattro e con una forza occupazionale di circa mille lavoratori la vicenda è particolarmente sentita. E' così lo sciopero proclamato dai sindacati di categoria Filcams, CGL, Fisaskat, Cisle e Wiltux in contemporanea Roma davanti al Mise e nei centri commerciali del territorio ha visto un'ampia partecipazione in attesa di risposte concrete. Non abbiamo ancora oggi un piano industriale chiaro, trasparente che spieghi ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali che cosa c'è in mente Conad. C'è la paura, c'è il timore fondato che in alcune aree, in alcuni ipermercati si possano produrre degli esuberi. Conad su questo comunque è stata chiara nei primi incontri. Quello che manca è un piano industriale per stabilire in che modo queste sofferenze vengono recuperate e soprattutto le condizioni per rilanciare poi l'attività di tutti gli ipermercati e la rete vendita. Sappiamo bene che Conad è un consorzio all'interno del quale ci sono dei soci e per il punti vendita in questione, in questo caso Modugno, non sappiamo qual è il futuro acquirente, il futuro propositore dell'acquisizione di queste unità occupazionali. Siamo alla cronaca, sono accusati di aver rapinato un commerciante a Iapigia e per questo sono stati arrestati dai carabinieri a finire in manette due pregiudicati di 23 e 45 anni. Il fatto contestato è avvenuto poco dopo l'evento in via Gentile quando la vittima, dopo aver effettuato una consegna di latticini, è stata avvicinata da due sconosciuti che si sono fatti consegnare circa 400 euro, dileguandosi poi per le vie adiacenti. L'immediata denuncia sporta dal commerciante al comando dei carabinieri di Carbonara ha consentito alla centrale operativa di diramare subito a tutte le pattuglie in servizio la descrizione esatta dei due malfattori intercettati così poco dopo, non lontano dal luogo della rapina. La neonata di 18 giorni morì per i ritardi nelle diagnosi di una malformazione cardiaca e per l'infezione polmonare contratta nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Sono le conclusioni del perito nominato dal Tribunale Civile di Bari dinanzi al quale si sta celebrando il processo per ottenere risarcimento dei danni. I genitori della piccola, una coppia di Vitonto, ha citato in giudizio la ASL Bari all'epoca responsabile della struttura pediatrica, stando alla perizia. Nel caso di corretta e tempestiva gestione, la sopravvivenza della neonata sarebbe stata certamente maggiore e nell'ordine del 90% a 20 anni. Nei mesi scorsi il giudice ha formulato una proposta di transazione che l'ASL ha rifiutato. Ieri si è celebrata l'udienza al termine della quale il Tribunale, che tratta il caso dal 2016, si sarebbe dovuto riservare per la decisione definitiva. L'udienza invece è stata rinviata al 4 febbraio 2020 perché il giudice è stato trasferito. Anche la polizia locale si organizza per la festa di Halloween. Per la serata di domani sono state predisposte 5 pattuglie in più che presideranno le zone più calde della città. Sentiamo. La città di Bari si prepara ad una delle serate più partecipate dell'anno, soprattutto dai ragazzi e che prenderà il via tra meno di 24 ore. Parliamo di Halloween, festa popolare di eredità celtica che negli anni passati ha comportato anche qualche disagio, soprattutto ai commercianti, per il diffuso fenomeno del lancio delle uova. E dalla polizia locale si organizzano predisponendo eccezionalmente per la giornata di domani, in particolar modo nelle ore serali, considerate le più calde, 5 pattuglie in più in determinate zone della città. Ci spiega tutto il comandante della polizia locale, Michele Palumbo. Oltre ai servizi ordinari, in queste particolari giornate vengono attenzionate queste problematiche, anche il lancio di uova sui negozi, sulle persone, addirittura sui boss, perché sembra sia diventata una moda quella di prendere di mira anche gli autobus locali. Abbiamo intensificato i controlli, in particolare nella giornata di domani, in tutta la giornata, in particolare nelle ore serali, ci saranno 5 pattuglie in più rispetto all'ordinario, sarà il servizio predisposto in maniera dedicata dalle 16 fino alle 23, alle 24 più o meno. Le zone interessate dove abbiamo inteso implementare i servizi sono su San Paolo, sui percorsi delle legne urbane, di solito dove ci sono gli attacchi alla diligenza, diciamo così, o le zone, anche in particolare Libertà, Carrassi San Pasquale, la Madonnella e la zona di Poggio Franco, abbiamo intensificato. E proprio sui festeggiamenti di Halloween, in cui molti cittadini chiedono al sindaco maggiori controlli di polizia per strada, De Caro risponde con un lungo post sulla sua pagina Facebook, invitando le famiglie a sensibilizzare i giovani alla educazione e non alla violenza. Invece di chiedere polizia ovunque, scrive De Caro, chiediamoci cosa facciamo noi perché i nostri figli imparino a diventare cittadini migliori. Se sono costretto a ordinare il coprifuoco per Halloween, si legge ancora nel post, vuol dire che Bari è una città destinata a morire. Il 9 settembre scorso, in piazza Battisti a Conversano, salvarono la vita al proprietario di una storica attività di riparazione orologica, con un tempestivo massaggio cardiaco. Nelle scorse ore, così il sindaco Pasquale Loiacono ha conferito loro l'encomio solenne. Protagonisti della vicenda a lieto fine sono due carabinieri, Giovanni Andreozzi e Vitantonio Pizzutilo. Cambiamo argomento, la compagnia Volotea lancia tre nuove rotte da Bari. L'offerta della compagnia cresce così complessivamente dell'11%, tutto nel servizio di Roberto Maggi. Tre nuove rotte, Lione, Spalato, Cefalonia, un numero di destinazioni che sale a 22 di cui 20 esclusive. Volotea presenta le novità sugli scali pugliesi per un matrimonio che dal 2012 ha trasportato già un milione e mezzo di passeggeri. In particolar modo del volo per la Francia, che si aggiunge a quelli già presenti per Nantes, Bordeaux, Tolosa, Marsiglia e Strasburgo, ne beneficerà il turismo incoming, visto i crescenti flussi di passeggeri d'oltre Alpe che visitano la nostra regione. A illustrare le novità sono stati la commercial country manager per l'Italia di Volotea, Valeria Rebasti, e il presidente di aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. Sono rotte verso tre paesi diversi. La prima è verso Lione, quindi una nuova destinazione verso la Francia. Sarà operativa a partire dal prossimo aprile e collegheremo Bari due volte alla settimana alla meravigliosa città francese. E poi a partire da luglio dell'anno prossimo sarà possibile volare direttamente da Bari sia a Spalato, in Croazia, sia a Cefalonia, un'altra meravigliosa isola greca che collegheremo direttamente. Il rapporto di oggi con Volotea è un rapporto che si consolida di più. Una compagnia nata solo nel 2012 che in poco più di 7-8 anni fa successi importanti in termini di passeggeri. Considerate che questa compagnia ha portato in Europa qualcosa come più di 25 milioni di passeggeri. In Italia 3 milioni e mezzo. Noi ci collochiamo intorno al 10-12% dei passeggeri che trasporta Volotea in Italia. Il giornalista Nicola Porro oggi pomeriggio a Bari per presentare il suo libro Le tasse invisibili, l'inganno di Stato che toglie a tutti per dare a pochi. Vediamo. Un'inchiesta sulla tassazione italiana, una denuncia sulle ingiustizie che genera e le tasse invisibili, l'inganno di Stato che toglie a tutti per dare a pochi. Il nuovo libro di Nicola Porro, giornalista ed economista italiano, ospite della Fondazione Tatarella nell'ambito della rassegna incontri d'autore, il giornalista ha presentato il suo nuovo manuale che smonta tutti i luoghi comuni sulle tasse, soprattutto quelle che definisce invisibili e che troppo spesso colpiscono le fasce di popolazione svantaggiata. Riferimenti nel libro anche alle tasse che apparentemente hanno un costo basso, come quelle universitarie che costruiscono un vero e proprio costo per l'intera collettività. Nicola Porro attraverso questo libro così sottolinea l'obbligo di ogni cittadino di pagare le tasse e evidenzia l'importanza di uno Stato che imponga attributi trasparenti ma soprattutto giusti. Quello che cerco di raccontare in maniera spero semplice e spero che la gente lo legga con attenzione questo libro è che noi subiamo tantissime imposte quasi senza ancorgercene, cioè lo Stato ci sta ingannando. Oltre alle tasse che conosciamo, quelle sul reddito, alcune patrimoniali, l'IVA, ci sono tante microtasse che vengono chiamate microtasse ma se le sommi una sull'altra fanno parte del nostro reddito che va a pagare questa enorme macchina pubblica per altro molto inefficiente. L'emergenza di questo paese è che non cresce la ricchezza di questo paese, gli stipendi sono bassi e non c'è lavoro. La vera grande disuguaglianza di questo paese è tra chi lavora e chi non lavora. E noi siamo in chiusura del primo spazio del nostro telegiornale, breve pausa pubblicitaria, poi ancora di nuovo insieme con nuove notizie. Rieccoci nuovamente insieme in diretta dagli studi di Telebari. Resta a Bari il procedimento penale sul naufragio della motonave Norman Atlantic avvenuto a dicembre del 2014 a largo delle coste albanesi a seguito di un incendio scoppiato a bordo nel quale morirono 31 persone e altri 64 passeggeri rimasero feriti. Il gruppo Francesco Agnino ha rigettato le questioni preliminari sulla giurisdizione e sulla competenza territoriale sollevate ieri dalle difese degli imputati che chiedevano invece di trasferire il processo a Brindisi o in Grecia. L'udienza preliminare è quindi proseguita con la discussione della Procura. I pubblici ministeri Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano hanno insistito per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati 30 persone fisiche, le due società Visemar e la greca Anek Lines, rispettivamente proprietaria e noleggiatrice del traghetto. Cambiamo argomento i numeri sulla povertà in terra di Bari e sui servizi maggiormente erogati dalla ripartizione welfare del comune nel servizio di Serena Russo. Un trend in crescita su tutti i servizi, in particolare su quelli che riguardano le persone anziane con disabilità, il contrasto alle povertà estreme e l'emergenza abitativa. E' lo spaccato del piano sociale di zona, il bilancio dei servizi erogati dalla ripartizione welfare del comune di Bari che fotografa attraverso i numeri anche l'andamento delle povertà in terra di Bari. La relazione si riferisce all'ultimo triennio, ma solo nell'ultimo anno i cittadini che hanno usufruito di servizi domiciliari sono stati 756 tra persone anziane e con disabilità. Sempre per queste categorie di persone, il comune eroga anche un servizio di trasporto sociale per 400 utenti e un servizio di trasporto sociosanitario per ben 174 persone, ampliato da pochi mesi per la prima volta anche alla fascia dei minori disabili. A questi numeri si aggiungono i ricoveri e le accoglienze nelle strutture convenzionate del comune, i centri di urni e nelle residenze sanitarie. Altro dato significativo riguarda la PUA, la porta unica di accesso che raccoglie le richieste dei cittadini che necessitano di interventi sociosanitari. Nel 2018 si sono registrati 6.978 accessi rispetto ai 5.129 del 2017. Rilevante inoltre l'investimento effettuato dall'assessorato sulle misure di contrasto alla povertà estrema. Tra queste si consolidano le case di comunità che hanno accolto più di mille persone, le case delle culture al San Paolo, 140 in 12 mesi, e le strutture Sole Luna e Centro Andromeda che ha offerto ricovero notturno a ben 412 utenti. 11.000 euro di multe, 350 kg di prodotti ittici sequestrati, il risultato dell'operazione della Guardia Costiera che ha interessato ristoranti del Barese, pescherie e anche alcuni pescatori abusivi. In particolare a Bari i titolari di due pescherie sono stati multati di 1.500 euro perché vendevano pesce in assenza di documenti che ne attestassero la tracciabilità. E ancora 3.000 euro di multa sono stati inflitti a un noto ristorante del capoluogo per aver destinato a deposito di pesce di vari generi alimentari un immobile adiacente all'esercizio commerciale sprovvisto di autorizzazione sanitaria. Anche la polizia locale si organizza per la festa di Halloween. Per la serata di domani sono state predisposte 5 pattuglie in più che presideranno le zone più calde della città. Sentiamo. La città di Bari si prepara ad una delle serate più partecipate dell'anno soprattutto dai ragazzi e che prenderà il via tra meno di 24 ore. Parliamo di Halloween, festa popolare di eredità celtica che negli anni passati ha comportato anche qualche disagio soprattutto ai commercianti per il diffuso fenomeno del lancio delle uova. E da una polizia locale si organizzano predisponendo eccezionalmente per la giornata di domani, in particolar modo nelle ore serali considerate le più calde, 5 pattuglie in più in determinate zone della città. Ci spiega tutto il comandante della polizia locale Michele Palumbo. Oltre ai servizi ordinari in queste particolari giornate vengono attenzionate queste problematiche, anche il lancio di uova sui negozi, sulle persone, addirittura sui boss, perché sembra sia diventata una moda quella di prendere di mira anche gli autobus locali. Abbiamo intensificato i controlli e in particolare nella giornata di domani, tutta la giornata e in particolare nelle ore serali, ci saranno 5 pattuglie in più rispetto all'ordinario e sarà il servizio predisposto in maniera dedicata dalle 16 fino alle 23 alle 24 più o meno. Le zone interessate dove abbiamo inteso implementare i servizi sono su San Paolo, sui percorsi delle legne urbane, di solito dove ci sono gli attacchi e la deligenza, ho le zone anche in particolare Libertà, Carrassi San Pasquale, la Madonnella e la zona di Poggio Franco, abbiamo intensificato. E proprio sui festeggiamenti di Halloween, in cui molti cittadini chiedono al sindaco maggiori controlli di polizia per strada, De Caro risponde con un lungo post sulla sua pagina Facebook, invitando le famiglie a sensibilizzare i giovani alla educazione e alla non violenza, invece di chiedere polizia ovunque, scrive De Caro, chiediamoci cosa facciamo noi perché i nostri figli imparino a diventare cittadini migliori, se sono costretto a ordinare il coprifuoco per Halloween, si legge ancora nel post, vuol dire che Bari è una città destinata a morire. Ancora cronaca, 8 ladri di olive, in tre diverse circostanze, sono finiti nella rete dei carabinieri del comando provinciale di Bari, arrestati e poi ristretti ai domiciliari. L'operazione più importante è stata messa a segno a Capurso, dove i militari in contrada Marrone hanno arrestato tre vitontini di 44, 47 e 52 anni, mentre utilizzando due aste di metallo e due teli stavano raccogliendo olive da un fondo agricolo di proprietà privata. All'arrivo dei carabinieri due dei tre malfattori hanno tentato la fuga tra i campi, venendo tuttavia bloccati poco dopo. Nuovi arredi nell'area di piazza San Pietro a Bari, lavori iniziati qualche giorno fa, prevedono l'installazione di panchine, sedute, rastrelliere per biciclette e cestini, ma anche la realizzazione di alcune fioriere rettangolari che ospiteranno 17 nuovi alberi. In questo modo la piazza avrà per la prima volta una connotazione verde. Al termine di questo intervento, ha dichiarato il sindaco De Caro, non troveranno più un parcheggio d'auto, ma una piazza accogliente, dove magari potranno aprirsi nuove attività commerciali. Cambiamo argomento il giornalista Nicola Porro, oggi pomeriggio a Bari, per presentare il suo libro Le tasse invisibili, l'inganno di Stato che toglie a tutti per dare a pochi. Sentiamo. Un'inchiesta sulla tassazione italiana, una denuncia sulle ingiustizie che genera e le tasse invisibili, l'inganno di Stato che toglie a tutti per dare a pochi. Il nuovo libro di Nicola Porro, giornalista ed economista italiano, ospite della Fondazione Tatarella nell'ambito della rassegna incontri d'autore, il giornalista ha presentato il suo nuovo manuale, che smonta tutti i luoghi comuni sulle tasse, soprattutto quelle che definisce invisibili e che troppo spesso colpiscono le fasce di popolazione svantaggiata. Riferimenti nel libro anche alle tasse che apparentemente hanno un costo basso, come quelle universitarie che costruiscono un vero e proprio costo per l'intera collettività. Nicola Porro attraverso questo libro così sottolinea l'obbligo di ogni cittadino di pagare le tasse evidenzia l'importanza di uno Stato che imponga attributi trasparenti ma soprattutto giusti. Quello che cerco di raccontare in maniera spero semplice e spero che la gente lo legga con attenzione questo libro è che noi subiamo tantissime imposte quasi senza ancorgercene. Cioè lo Stato ci sta ingannando. Oltre alle tasse che conosciamo, quelle sul reddito, alcune patrimoniali, l'IVA, ci sono tante microtasse che vengono chiamate microtasse, ma se le sommi una sull'altra fanno parte del nostro reddito che va a pagare questa enorme macchina pubblica per altro molto inefficiente. L'emergenza di questo paese è che non cresce la ricchezza di questo paese. Gli stipendi sono bassi e non c'è lavoro. La vera grande disuguaglianza di questo paese è tra chi lavora e chi non lavora. Dopo settimane di sole torna il maltempo in Puglia. È allerta gialla della protezione civile a partire da domani, ma vediamo che tempo farà Subari per ogni istante. Lo facciamo con il nostro esperto e colonnello Vita Antonio Laricchia in collegamento con noi in diretta. Colonnello, buonasera. Buonasera a tutti quanti voi. Finalmente possiamo dire che arriva un po' di autunno dopo questo sconsiderato settembre-ottobre che sono stati abbastanza anomali. Ci hanno fatto ricondare ancora le belle giornate estive. Quindi arriverà un corpo nuvoloso continentale, molta nuvolosità, qualche pioggia qua e là. Quindi usciremo da casa con l'ombrello a seguito le temperature che tanderanno a diminuire di 5-6 gradi a causa dei venti da quadranti settentrionali. Una grande instabilità che rimane per giovedì e venerdì. schiarite per giornata di sabato a causa dei venti da quadranti settentrionali. Ma poi avremo una grande ondata sciroccale tra venti da quadranti meridionali molto forti che faranno ancora impennare le temperature addirittura fino a 25-26 gradi a partire da domenica nei prossimi giorni. E per avere le piogge o avere mal tempo dovremo aspettare ancora qualche giorno. Grazie Colonnello. Niente, arrivederci. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie a voi per averci seguito. Noi siamo in chiusura. Auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Ben trovati da Nikos di Trebimeteo. Giovedì piano piano si sposterà verso le regioni del centro-sud la perturbazione, seppur debole, ancora capace comunque di determinare qualche precipitazione soprattutto su basso Tirreno ed il versante adriatico. Inizia a migliorare il tempo invece al nord, debole rimonta dell'alta pressione da ovest, dalla Spagna e dalla Francia. Andiamo a vedere il dettaglio previsionale, quindi per quanto riguarda la nuvolosità. Al mattino ancora molte nubi di passaggio, poi piano piano qualche rasserenamento inizierà ad avanzare sulle regioni settentrionali, gran variabilità al centro-sud. Prossima grafica che ci conferma una giornata con qualche fenomeno atteso sulle nostre regioni, isole maggiori, basso Tirreno, medio-basso Adriatico. Al mattino ancora qualcosina sulle Alpi settentrionali, però guardate la tendenza, variabilità al nord, ma anche qualche schiarita dei rasserenamenti. Le temperature ovviamente saranno più fresche rispetto ai giorni scorsi perché i venti inizieranno a ruotare tra nord e nord-est. Dettagli maggiori approfonditi scaricando l'app di Trevi Meteo.